Presentato il terzo appuntamento di Job Match Café che si terrà il prossimo martedì 28 aprile al Palazzetto dello Sport dell'Istituto Tecnico Commerciale Capitini di Agliana. L'evento organizzato dalla provincia di Pistoia ha lo scopo di far incontrare domanda e offerta di lavoro. Una giornata di incontri e seminari con l'obiettivo di far conoscere il mondo e le opportunità del lavoro e della formazione proposta nel territorio provinciale. All'iniziativa insieme ai centri per l'impiego della provincia di Pistoia parteciperanno oltre 40 aziende. Naturalmente abbiamo pensato anche di spostare o fare un altro intervento, un'altra manifestazione nella piana pistoiese cercando di focalizzare l'attenzione su uno dei comuni che ci ha dichiarato disponibilità ad ospitarci, è il comune d'Agliana e quindi noi abbiamo riprodotto il format di Montecatini, abbiamo raccolto un numero di aziende superiori anche a quelle di Montecatini, siamo a più di 40 e stiamo aspettando ulteriori adesioni, tutte aziende che chiaramente devono assumere e che nell'ambito della giornata del 28 faranno tutti i colloqui di lavoro e quindi ci aspettiamo che come per le altre volte ci sia anche un riscontro occupazionale, che ci siano poi delle assunzioni. Il job match Caffè di Agliana si pone in continuità con quello già organizzato a Montecatini Terme, al job match di Pistoia dove sono stati avviati ben 130 rapporti di lavoro. Oggigiorno c'è, come sappiamo, una grossa crisi dal punto di vista lavorativo e c'è quindi il bisogno di promuovere le aziende che vogliono assumere e soprattutto far incontrare la domanda e l'offerta e questa è un'ottima occasione per farlo. Da un punto di vista dell'occupazione, come sta il territorio aglianese? Il territorio aglianese purtroppo non vive una situazione rosea perché sappiamo bene che questo era un territorio legato soprattutto al distretto tessile pratese che negli ultimi anni ha risentito un po' della concorrenza cinese e di altri paesi dell'estremo oriente. Dobbiamo un attimo risollevarci, dobbiamo anche guardare ad altri settori e questa è una maniera per vedere cosa c'è di nuovo e le nuove prospettive lavorative anche per il futuro.